Dal punto più estremo della Terra arrivano segnali allarmanti sul cambiamento climatico. L'Artico si sta scaldando a un ritmo preoccupante e la sua lontananza non deve rassicurarci, perché quello che accade lì anticipa quello che accadrà nel resto del pianeta. Condurre ricerche in questa zona inospitale è dunque cruciale e l'Italia gioca la sua parte con il programma di ricerche in Artico, pra avviato nel 2018 con una dotazione di un milione di euro l'anno che coinvolge diversi ministeri, enti di ricerca, primi fra tutti CNR, INGV, Enea e OGS e università. Un bilancio dei primi anni di attività e dei risultati delle ricerche in corso sono stati presentati durante un evento organizzato a Roma dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Quello che stiamo vedendo è un riscaldamento molto importante dell'Artico, addirittura di quasi quattro volte la media mondiale. Ecco perché siamo molto allertati e molto allarmati di quello che sta succedendo, perché questo provoca un innalzamento del livello del mare a causa della fusione dei ghiacci e un riscaldamento anche dei mari con un impatto molto importante sulle specie che vivono nell'acqua e nell'oceano Atlantico e Artico. Strategica quindi la presenza del nostro paese in questa zona. Siamo in Artico perché l'Artico è uno dei cosiddetti hot spot del cambiamento climatico, cioè luoghi della Terra dove il cambiamento climatico avviene molto più rapidamente rispetto alla media del riscaldamento del pianeta. In Artico avviene l'amplificazione artica e quindi le conseguenze di ciò che avviene si sentono non solo in quella regione ma su tutto il resto del pianeta. Cioè avviene un gioco che è cruciale perché superate certe soglie, la fusione del permafrost, la scomparsa del ghiaccio marino estivo, l'atlantificazione delle acque, una volta che avvengono questi cambiamenti non sono più reversibili e le conseguenze le pagherà l'intero pianeta accelerando proprio il riscaldamento. Quindi è cruciale essere lì come Italia insieme ad altri paesi. C'è da fare diplomazia scientifica e c'è da aggregare la comunità scientifica italiana che è forte ma dispersa come spesso è l'Italia. Quindi questo piccolo finanziamento che da qualche anno abbiamo, di un milione all'anno, è utile perché attraverso un sistema di call fatte con referi internazionali ad alto livello e noi mettiamo quasi l'80% di questo budget a formare nuovi ricercatori, nuove idee e quindi è un'occasione di rilancio. Tra le attività portate avanti in questi anni, il finanziamento di dottorati di ricerca in scienze polari all'Università Caffoscari a Venezia, la creazione di un sito aperto per la diffusione dei dati alla comunità scientifica, oltre a diversi progetti di ricerca, attività che potranno proseguire se, come ci si attende, verrà confermato il finanziamento per il 2023. La vera aspettativa sarebbe il raddoppio di questo finanziamento, cioè dimostrando che questo milione lo stiamo spendendo bene, un altro piccolo milione potrebbe veramente permettere di fare uno scatto nella qualità delle ricerche che facciamo e nella quantità di persone che portiamo e che coinvolgiamo in queste ricerche.